Sì, ciao a tutti, siamo qui in questa struttura fantastica che ci sta ospitando in questi giorni per i nostri allenamenti e quindi sabato pomeriggio vi aspettiamo numerosi, soprattutto i più piccoli, per farci qualche vasca insieme, trascorrere un po' di tempo in compagnia e avvicinarvi a questo sport meraviglioso che è il nuoto.